E sul tema in questione è importante rompere il silenzio e sostegno immediato alle donne. Sono gli obiettivi di una campagna di informazione che è stata lanciata dalla Combo Commercio BariBat e incentrata su Signal for Health, un segnale silenzioso per aiutare le donne a chiedere soccorso. Il meccanismo del segnale è stato spiegato agli esercenti e sarà avvisso negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. È un passo importante verso la creazione di un ambiente sicuro e consapevole in cui le donne, vittime di violenza, possono trovare sopporto senza dover pronunciare una parola. Combo Commercio spiega che si tratta di un gesto semplice che può essere fatto in modo discreto quando una donna si sente minacciata o in pericolo, come posizionare la mano in una certa maniera o utilizzare un segnale convenuto con il personale dell'esercizio.